Buonasera, benvenuti, noi siamo di Ecos, questa sera ci daremo compagnia con la musica dei Pink Floyd, quindi buon ascolto, siate buoni con noi, abbiamo qualche problema di voce, siate clementi, ma se ci fate non ti applausi, basta tutto. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.